3 metri quindi ufficialmente questo momento era importante per riconoscire il nostro capo supremo il sindaco è il capo di Valdetti ooooh ooooh qualsiasi ordine siamo affittuati che venga pure questa è la nostra sede quindi il punto di ritrovo sospeso fino ad oggi finanziamenti quindi anche contributi e quando stavo chiusura di locali no però bisogna dire che mentre scendevo giù il fatto di averlo aperto e da luce poi è fatto spettacolo la cura del dettaglio spettacolo per il mio padre voleva un maschio quindi non volevo la festa perfetto per fare una confezione si vedi che allora non era così fuori luogo questa cosa molto bene per il mio padre per il mio padre per il mio padre come primo gesto di inserimento prendetelo come tramite un dovuto ringraziamento da parte mia verso di voi vi esento in maniera del tutto eccezionale dall'apporre per una settimana il bancherone mi costa molto se non hai detto sono a discutere qualunque cosa ma prima mi chiesto la cosa è quella paziente è sentati non lo metti a me 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 grazie